Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale amici, io sono Letizia e sarò la vostra guida preferita nel mondo del folclore, dei miti e delle leggende. Oggi l'argomento del video saranno proprio i morti viventi, i famigerati zombie. So cosa potreste pensare, che gli zombie sono un argomento sciocco, che non c'è nulla da dire su di loro perché sono semplicemente mostri che sono stati creati ai giorni nostri, il cui uno scopo è spaventare chi guarda un determinato film o gioca un determinato videogioco. Devo dire la verità, anche io credevo fossero semplicemente il prodotto di qualche matto dei nostri giorni, ma scavando più a fondo ho scoperto che l'argomento è molto più intricato e interessante di quello che potrebbe apparire. Se analizziamo infatti i film che hanno come protagonisti proprio gli zombie, scopriamo che da circa gli anni 30 del 900 ad oggi la figura del morto vivente si è evoluta proprio in base a ciò che stava accadendo nel mondo e le tematiche che vengono trattate rispecchiano sempre le paure della società in quel momento specifico, come ad esempio la paura per l'arrivo degli alieni causata dai primi viaggi dell'uomo sulla luna o quella per un pericoloso virus che si diffonde in tutto il mondo. I temi trattati in questi film però sono spesso simili, si va dalla classica paura della morte al terrore per la fine della vita e della società per come la conosciamo a causa di una qualche apocalisse, alle reazioni umane eccetera eccetera. Mentre il fantasma deriva da una paura tutta cristiana per cui avviene una specie di dissociazione tra il corpo che muore e l'anima che è costretta a vagare sulla terra anche dopo la morte, per quanto riguarda lo zombie, questa è una creatura che sì si risveglia dal sonno eterno ma che è di solito privato sia dell'anima che della coscienza. Lo zombie è quindi proprio essenzialmente un automa. Ma innanzitutto definiamo cos'è uno zombie. Per prima cosa la parola zombie non è un termine di origine inglese o latina ma è di origine haitiana che a sua volta lo prende in prestito dal bantu, una lingua come sappiamo africana. Ovviamente quindi ci stiamo muovendo nel territorio del voodoo anche se oggi nell'immaginario comune la parola zombie viene usata per indicare un morto vivente che si mangi i cervelli umani. La tradizione voodoo ci riporta l'esistenza di alcuni particolari sacerdoti che venivano chiamati bokor che erano in grado di catturare una parte dell'anima di una persona e di tenerla essenzialmente dentro una fiaschetta. Secondo sempre le leggende per riuscire a prendere l'anima dello sventurato il sacerdote doveva cavalcare muovendosi all'indietro fino alla casa della vittima che aveva scelto. Poi doveva recitare alcune parole magiche e infine doveva succhiare da una fissura della casa l'anima che veniva poi trasferita all'interno della fiaschetta. Questo rituale produceva nella vittima uno stato di letargia in tutto e per tutto simile alla morte vera e propria tanto che la famiglia credendolo effettivamente caput lo seppelliva. A questo punto il nostro sacerdote stregone stappava la fiaschetta con dentro l'anima di sto poveretto e il cui corpo si risvegliava ma era privato della sua identità e quindi questo finiva con il diventare un vero e proprio servo dello stregone. Secondo le leggende questo stato non era irreversibile. La vittima doveva sempre essere mantenuta zombificata tramite delle dosi di polvere magica. Alcune versioni addirittura ci dicono che per far tornare la coscienza allo zombie questo dovesse mangiare del sale. Probabilmente queste leggende possono essere ricondotte agli stati di letargia o di allucinazioni indotti da alcuni tipi di droghe che si consumavano sull'isola. Il voodoo haitiano è costituito da un forte sincretismo e ciò significa che durante la formazione di questa credenza essa ha subito molte influenze esterne. Per questo motivo possiamo affermare che il voodoo è in realtà una mescolanza di diverse religioni e credenze. Molte di queste credenze derivano direttamente dal continente africano che è come tutti noi sappiamo essere il reale luogo d'origine degli schiavi durante il periodo coloniale di Haiti. Ma in realtà nel voodoo e soprattutto nella leggenda degli zombie ci sono anche alcune tracce della religione cristiana portata dai conquistatori. Il mito dello zombie di Haiti infatti ci ricorda allo stesso tempo la schiavitù forzata degli africani deportati ai Caraibi e la resurrezione cristiana. E infatti la figura dello zombie è la metafora perfetta per il fenomeno della schiavitù perché anche lo schiavo viene ridotto a un numero, a una semplice bestia sfruttata per lavorare e senza alcuna facoltà di scelta o possibilità di ribellione proprio come lo zombie del Bokor. Questa visione inquietante dello zombie nella cultura haitiana potrebbe dunque rappresentare la situazione di un popolo che ha subito e sofferto molto ma che non si dà per vinto. Il maleficio come abbiamo già detto può essere sciolto e lo zombie può ritrovare la sua umanità così come lo schiavo può tornare ad essere uomo. Abbiamo una prova nemmeno troppo remota ma anziché risale agli anni 50 di quanto il mito dei morti viventi sia ben radicato ad Haiti, la dittatura di François Duvalier che vinse le elezioni politiche dell'isola nel 1957. Duvalier durante i suoi anni universitari aveva studiato la religione creola di Haiti e anche il voodoo che era il culto animistico originario dell'Africa occidentale che era diffusissimo tra tutta la popolazione del posto. Questo fu il fattore che determinò la salita al potere di Duvalier e il suo enorme potere. Infatti l'uomo terrorizzava la popolazione non solo attraverso l'uso della violenza fisica ma anche sfruttando la superstizione e le credenze animistiche. Duvalier aveva capito l'influenza che gli stregoni voodoo esercitavano sulla popolazione e la sfruttò a suo vantaggio facendosi credere un potente sciamano in grado di far tornare in vita i morti. Addirittura il culto della sua personalità era arrivato a un punto così estremo e irrazionale che in quegli anni lui stesso fece circolare migliaia di volantini con l'immagine di Cristo che posava una mano sulla sua spalla con la dicitura io l'ho scelto. Quindi il concetto di morto vivente sembrerebbe essere una reinterpretazione di quello che lo zombie rappresenta nella religione voodoo. La caratteristica generale dello zombie che tutti noi conosciamo è la sua enorme goffaggine e lentezza oltre alla sua scarsa o nulla intelligenza. Nella maggior parte dei film lo zombie è semplicemente un mostro inconsapevole di sé che agisce come un automa e il cui unico obiettivo è mangiare persone. Non si sa esattamente da dove deriva il loro amore per il cannibalismo ma spesso lo zombie viene rappresentato come un personaggio che per sopravvivere deve proprio nutrirsi di carne umana. La figura dello zombie entra nell'immaginario comune occidentale cioè negli Stati Uniti e in Europa in gran parte grazie a un romanzo fantasy pubblicato nel 1929 dal William Seabrook che si chiama The Magic Island da cui poi ne è stato tratto il film l'isola degli zombie. Ci troviamo ad Haiti nel 1800 e una coppia di giovani fidanzati arriva sull'isola per celebrare il proprio matrimonio. Questi due che si chiamano mi sembra Madeleine e Neil vanno a casa di un ricchissimo proprietario terriero che si chiamava Beaumont che però è segretamente innamorato della ragazza. Beaumont allora decise di chiedere un aiuto a uno di questi sacerdoti stregoni dell'isola che si chiamava Legendre che vive in un molino con alle dipendenze tipo un'orda di zombie. Lo stregone dice all'uomo di uccidere Madeleine con un veleno, di seppellirla e poi di riportarli in vita dopo il funerale in modo che la donna potesse essere interamente sua. E cosa mai potrebbe andare storto in un piano fantastico come questo? Comunque Beaumont crede che questa sia un'idea geniale quindi decide di avvelenare la tizia durante il suo matrimonio e lei ovviamente fa la fine che doveva fare, viene messa in una cripta e lo stregone e Beaumont la vanno a trovare e la riportano in vita sotto forma di zombie. È interessante anche un reportage di un antropologo canadese di nome Wade Davis che si interessò molto a un presunto caso di zombificazione. Un contadino haitiano era morto a causa di una grave febbre nel 1962 in un ospedale dell'isola e il decesso è stato accertato sia dai familiari dell'uomo che dai medici e questo contadino viene sepolto e il giorno dopo ci sono i funerali. La sorella di quest'uomo però un giorno recandosi al mercato vede suo fratello e quindi ci va subito a parlare. L'uomo le dice che è stato vittima della magia nera e che è stato costretto per un paio di anni dopo la sua morte a servire un bokor, uno stregone. Quando anche il suo padrone è passato a miglior vita il contadino si è svegliato e ha passato 16 anni a cercare la sua famiglia. Questa vicenda è andata virale negli anni 80 tanto che la BBC ha inviato una squadra di suoi giornalisti sull'isola a indagare e sorprendentemente scoprono che ci sono più di 200 testimoni che confermano l'identità dello zombie tornato in vita. Il nostro antropologo canadese nel suo reportage ipotizza che la morte dell'uomo sia stata soltanto apparente e che fosse stata indotta da una droga paralizzante chiamata tetrodottossina che gli sarebbe stata somministrata proprio dallo stregone. Questo tipo di tossina si può ricavare sia da una specie di rospo che vive sull'isola di Haiti che dal piusce palla. Per quanto riguarda invece la privazione della memoria e della volontà del contadino potrebbero esserci tre cause razionali senza andare a scomodare il paranormale. Innanzitutto la tetrodottossina può mantenere l'effetto paralizzante su certe aree del cervello anche dopo la ripresa delle capacità motorie da parte della vittima. Quindi in questo modo alcune facoltà celebrali rimarrebbero inibite. In secondo luogo lo stregone poi avrà sicuramente somministrato al contadino altre droghe o allucinogeni. La terza causa potrebbe invece essere di natura psicologica perché dobbiamo tenere conto sempre dell'enorme suggestione che il voodoo operava sulla popolazione di Haiti. Tutto ciò ha sicuramente fatto credere al contadino di essere veramente un morto vivente che non poteva in alcun modo ribellarsi al presunto sortilegio. Ma da dove nasce la paura dei morti viventi? Che possono essere in realtà anche vampiri, fantasmi e mummie. La mitologia dei morti viventi nasce dalla paura di lasciare la terra e il mondo di questi non morti è infatti una sorta di limbo diciamo, una specie di passaggio intermedio tra la vita e la morte. Lo zombie tipico del cinema è di solito un cadavere riportato in vita alla continua ricerca di qualche cervello che è in grado con un solo morso di trasformare una persona in un altro zombie. Di solito agisce per istinto e viene attratto da odori o suoni molto forti e di solito non possiede nessuna funzione vitale. Non ha né battito cardiaco né respira né ha dei riflessi. Altra caratteristica del morto vivente è che non è in genere in grado di parlare e al massimo emette qualche suono gutturale come fa appunto il vostro fidanzato al mattino quando gli chiedete di buttare la spazzatura mentre esce. Di solito preso da solo non rappresenta un grosso pericolo lo zombie per una persona in quanto è molto lento ed è anche un po' scemo ma la sua pericolosità deriva proprio dal suo radunarsi in grandi gruppi di simpatici zombie e dalla sua tenacia con cui tenta di mangiare le sue vittime. Lo zombie però è stato un uomo prima di morire che si è stato trasformato da un virus da uno scienziato pazzo che sia stato morso da un altro zombie questa creatura era effettivamente un essere umano e la più grande dimostrazione di ciò è proprio il suo aspetto fisico. Pur assumendo un aspetto malconcio dato che si sta effettivamente decomponendo lui non perde il proprio aspetto umano anche se è un essere umano privo di razionalità e di umanità e secondo me è questo che spaventa di più in questa figura. Lo zombie spaventa l'uomo perché quest'ultimo è costretto a scappare per paura di essere trasformata a sua volta in un morto vivente e di perdere quindi il vero tratto distintivo dell'essere umano la coscienza. Intendo proprio la coscienza e la conoscenza di se stessi degli altri del proprio passato di chi amiamo. La figura dello zombie quindi è stata molto amata dai registi perché è capace di far uscire il lato peggiore dell'essere umano. Infatti bisogna notare che nei film che trattano di zombie di apocalissi zombie non esistono quasi mai degli eroi che cercano di sconfiggere le forze del male. Esistono tutt'al più degli esseri umani spaventati che nel tentativo di sopravvivere perdono molto spesso la loro gentilezza, il loro amore per gli altri, insomma la loro umanità e questo prima di diventare zombie. Spesso in quei film si formano gruppi di persone che ad esempio rifiutano di dare asilo ad altre persone o rifiutano di dare loro del cibo per paura di non avere una sufficienza per se stessi. Questo non lo fanno per cattiveria, per malvagità ma per pur istinto di sopravvivenza ovviamente. Ed è proprio questo istinto di sopravvivenza che rende l'uomo molto simile allo zombie o agli animali. L'istinto di sopravvivenza in determinate situazioni spesso prevale sulla nostra coscienza e questo è ciò che l'uomo ha da sempre cercato di nascondere, ergendosi a unica creatura in natura dotata di intelligenza e civiltà. Poi c'è da parlare di un altro dei temi più scottanti dietro a questa figura, cioè della morte, che è ciò che spaventa l'uomo fin veramente dall'alba dei tempi perché ancora oggi nessuno sa cosa c'è dopo. E quindi anche la tradizione dei morti viventi nasce proprio a causa del bisogno che l'uomo ha di doversi per forza dare delle spiegazioni e delle rassicurazioni sulla morte. Sfortunatamente o fortunatamente siamo gli unici animali ad avere coscienza che un giorno dovremo morire e per questo ci accorgiamo anche del tempo che passa. L'uomo ricorda di essere mortale soprattutto per ricordare a se stesso che il tempo che ha effettivamente a disposizione è poco e che quindi deve sfruttarlo nel migliore dei modi. La morte è un tema su cui centinaia se non migliaia gli autori hanno scritto di tutto in tutto il mondo perché è un qualcosa che spaventa ma che allo stesso tempo affascina incredibilmente e per noi ancora un qualcosa di estremamente misterioso proprio perché non la conosciamo e i non morti sono essenzialmente un qualcosa che sì fa parte di un mondo fantastico e irreale che noi sappiamo essere inverosimile, falso ma che per questo ci aiuta ad affrontare questo argomento che è ancora un tabù per noi e hanno fatto così successo nella nostra società occidentale film come vampiri, zombie, fantasmi eccetera proprio perché il nostro rapporto con il lutto è molto problematico, molto più che in altre società che invece la accettano più serenamente quasi come una liberazione. Vediamo ad esempio in India. La nostra cultura fa fatica a parlare della morte e cerca più che altro di esorcizzarla tipo attraverso l'ironia oppure il silenzio ma in realtà è un tema che riaffiori in continuazione. Pensiamo ad esempio a quante persone sono appassionate di cronaca nera. I vari mostri viventi sono legati alle diverse fasi storiche che noi uomini abbiamo passato e queste leggende sono profondamente legate a come sono cambiati i rituali e la rappresentazione della morte stessa nel corso del tempo. L'uomo si distingue dalle bestie anche perché non lasciamo i morti lì per terra ma li accompagniamo nel passaggio tra la vita terrena e quella dell'aldilà attraverso appunto il rito funebre. Tutte le culture hanno sentito il bisogno di dare ai propri cari che hanno lasciato questa terra una sorta di ultimo saluto. In tante culture per millenni i morti non erano considerati come degli stranei che se ne erano dati per sempre ma come proprio dei familiari ancora presenti e che ancora potevano aiutare e proteggere i vivi. Ma nel medioevo la morte inizia ad assumere dei tratti estremamente negativi in quanto gli uomini iniziano a vederci il castigo divino per i loro peccati e persino le catastrofi erano viste come frutto della volontà di Dio. Infatti fu proprio nel medioevo che nacque il tema iconografico della danza macabra nel quale era presentata una danza fra uomini e scheletri. Ovviamente gli scheletri sono una personificazione della morte mentre gli uomini sono solitamente abbigliati in modo da rappresentare le diverse categorie della società dell'epoca dai personaggi più umili come contadini e artigiani ai più ricchi come addirittura l'imperatore o il papa. La diffusione del tema è stata messa in relazione con la grande peste del 1348 che infurrò in tutta Europa e che rese la morte un fenomeno familiare nei vari paesi europei. I protagonisti di questa danza hanno proprio la funzione di memento mori cioè di ricordati che devi morire e l'umanità non si occupa solamente del corpo ma stabilisce anche il tempo che deve intercorrere tra la morte e il rito furebre che è il momento in cui la collettività l'accetta. Il periodo che passa tra il dolore per la scomparsa e l'accettazione di questo è un bisogno intrinseco dell'animo umano. Ma a partire dagli anni 50 del 1900 i rituali funebri diciamo che hanno perso un po' il loro significato perché la seconda guerra mondiale è diventata lo spartiacque per una nuova concezione della morte. Sono infatti caduti in disuso tutta una serie di rituali e per questo motivo è cambiato il rapporto con questo tema. La morte è quindi diventata tabù, un argomento sceno di cui non si deve assolutamente parlare. I funerai non sono più un luogo di ritrovo per le persone che soffrono insieme ma un posto da cui scappare. La nostra civiltà moderna è la prima a non essere in grado di affrontare il lutto che non viene più superato insieme agli altri collettivamente ma viene vissuto come un fatto privato e forse per questo ancora più doloroso. L'attrazione che molti hanno per film o libri sugli zombie sui morti viventi è quindi data dal fatto che questi strumenti permettono di affrontare il tema della morte però senza parlarle direttamente. Bene siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video. Oggi il tema è stato un pochino più pesante del solito. Conoscevate queste cose? Ditemelo nei commenti qui sotto. Spero che la storia delle origini degli zombie sia stata per voi interessante. Se vi va lasciato un like iscrivetevi al canale mi farebbe davvero molto piacere. Al prossimo video ciao!